ben trovati ben trovati con un ben trovati da parte mia Matteo Porfiri, Domenico De Zompo in regia per l'assistenza tecnica, anche oggi un nuovo appuntamento della nostra rubrica che ci permette ogni giorno di fare quattro chiacchiere con alcuni tra gli esponenti politici del territorio marchigiano. Oggi siamo nel Piceno, ha il piacere di avere con noi il segretario provinciale appunto di Ascoli Piceno, di noi moderati Lorenzo Vesperini, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. È un piacere insomma averla qui, io con lei Vesperini vorrei fare un po' il punto della situazione sulle ultime elezioni che ci sono state appunto ormai una decina di giorni fa e che hanno coinvolto tanti comuni del Piceno, oltre ovviamente ai vari comuni, agli altri comuni delle Marche. Elezioni alle quali noi moderati insomma ha ottenuto sorprendentemente degli ottimi risultati. Che tipo di bilancio possiamo stilare? Allora innanzitutto grazie per l'invito perché poi alla fine in politica come possiamo vedere quelli che sono importanti sono i risultati. Non possiamo nient'altro che essere soddisfatti di quelli che sono i risultati che ci hanno visto insomma prendere delle ottime percentuali sia a Monteprandone ma soprattutto ad Ascoli Piceno. Siamo arrivati ai Nascoli al 5,60% e a Monteprandone il 5,50%. Tenendo conto anche che c'era la doppia votazione sia a livello europeo che comunale. A livello europeo abbiamo notato una leggera flessione quindi credo che sia necessario quello di fortificare quello che è il progetto noi moderati accantonando almeno per il momento il discorso con Forza Italia perché il dato oggettivo che non siamo andati sopra al 4% invece quando noi moderati era da solo sia alle comunali siamo andati oltre il 5%, 5,60%. Ecco io dico che comunque è un risultato importante perché partivamo da risultati, siamo arrivati a risultati ben oltre le aspettative e quindi ringraziamo quelli che sono gli elettori ma il grande lavoro svolto sia dal segretario regionale Tablino Campanelli ma soprattutto dai candidati ma soprattutto dal provinciale e dal direttivo provinciale che in questi mesi, in questi sei mesi, sette mesi hanno dato il massimo per raggiungere questi importanti obiettivi. Infatti lei se non erro è proprio da sei mesi che ricopre questo ruolo quindi insomma è anche un suo successo personale. Sì, io è da gennaio che ricopro il ruolo di segretario provinciale, per indole sono una persona che si mette a disposizione su tutto il fronte cercando di migliorare quelli che sono gli obiettivi. La prima cosa che ho sempre detto ai ragazzi, prima di essere un partito politico bisogna essere un gruppo d'amici e condividere quelle che sono le necessità e le azioni sul territorio. Questo è stato recepito, io sono molto soddisfatto. Ringrazio anche del candidato sindaco di Monte Prandone, Emilio Del Sompo che è un'ottima figura istituzionale e il risultato di Monte Prandone lo mette in evidenza. Volevo tornare su Ascoli dove avete ottenuto il 5,49%. Che risultato è stato questo? Comunque in una città nella quale era scontata la vittoria del sindaco uscente Marco Fioravanti però vedete spicca il fatto che noi moderati abbiamo ottenuto più preferenze addirittura di Forza Italia. Qui il dato è veramente oggettivo. Abbiamo fatto, ringrazio Massimiliano Di Micco perché abbiamo confederato nonché Massimiliano Di Micco, è fondatore del gruppo consigliare che dal 2009 è presente in Ascoli che è fondatore di Per Ascoli. Abbiamo fatto a gennaio, ma ancora prima, degli incontri per cercare di confederare noi moderati Per Ascoli. Quest'azione io credo che abbia ottenuto i suoi grandi risultati perché andare con dei dati di quasi 1.500 preferenze, pensando che Per Ascoli otteneva precedentemente 8-900 preferenze e il dato oggettivo è stato ben recepito dagli Ascoli. Ecco, come dicevo anche sul discorso di andare oltre il risultato perché anche qui vediamo che noi moderati è andata sopra a Forza Italia. Con questo è un punto di partenza, non voglio dire che in sintesi possiamo, anzi, dobbiamo prendere questo risultato e partire per un futuro prossimo. Però il dato oggettivo è quello che Forza Italia ha dei dati consolidati. Noi siamo un partito in forte crescita dove i cittadini, la comunità si aspettano grandi cose e noi siamo qui per questo. Qual è il punto di forza a livello locale di noi moderati? Il punto di forza è un po' quello che riguarda i principi di comunità, quelli che sono i principi fondanti riguardanti i grandi temi che riguarda il Piceno. Uno sul discorso della sanità, l'altro sul fatto della famiglia, ma soprattutto quelle che sono le esigenze che la città e i cittadini si aspettano di avere risposte concrete sulle problematiche che comunque ogni comune, vuoi o non vuoi, sono sempre le stesse, ma che vogliono delle risposte concrete. Noi abbiamo attraverso i nostri programmi elettorali determinato questa importanza nel rispettare quelle che sono le azioni che la città e i cittadini nel corso di questi sei mesi abbiamo sentito e abbiamo portato a compimento. Ci hanno premiato con questo 5-60%. Lei prima ha fatto riferimento anche a Monteprandone, dove spicca il fatto che noi moderati, insomma il partito si è presentato proprio come partito, non a sostegno di una coalizione e quindi insomma in collaborazione con altre realtà. Quindi questo cosa vuol dire che effettivamente noi moderati in questo momento ha un ruolo autonomo a livello politico in Italia? Beh io direi proprio di sì. Cioè l'obiettivo nostro è quello di mettersi nell'azione, nella condizione, di andare a determinare nel futuro prossimo a una doppia percentuale, essere un punto di riferimento per i moderati, i centristi dell'area della provincia di Ascoli Piceno e con essi arrivare a quelli che sono le aspicate condizioni che ci potrebbero portare anche a ricoprire ruoli di primaria importanza all'interno delle prossime azioni elettorali che sono sia provinciali ma soprattutto regionali. Noi ci siamo sempre posti in ascolto e noi ci metteremo, ribadisco il noi, a disposizione soprattutto della coalizione, ma sempre nella crescita e del bene della collettività. Quali sono adesso gli obiettivi che cercherete, che proverete a raggiungere? Gli obiettivi sono, come avevo accennato poc'anzi, è quello che adesso è il prossimo appuntamento di maggio 2025 per quello che riguarda le provinciali. Poi successivamente aprire anche su un discorso regionale. Stiamo valutando insieme al segretario regionale diversi incontri, il gruppo si è molto allargato e abbiamo determinato questa crescita che è stata repentina e sotto gli occhi di tutti. Non ci vogliamo fermare, vogliamo rappresentare, come ho detto poc'anzi, quel gruppo di moderati, quindi quel gruppo di centro, che ad oggi non hanno casa. Con questo non vogliamo dire che andiamo a prendere e facciamo entrare tutti all'interno del nostro gruppo noi moderati, quindi ci sarà sempre una valutazione. Ma posso dire che il gruppo dirigenziale di noi moderati è un gruppo coeso e sa quello che deve fare. Chi è l'elettore di noi moderati? Che identichità? L'elettore di noi moderati è un elettore che... Che non si riconosce in cosa? Innanzitutto ha le bagarre politiche, vuole concretezza, è un elettore che non vuole assolutissimamente un'azione contraria solo perché si è all'opposizione o solo perché si è contro qualcuno. È un elettore che cerca in tutti i modi risposte concrete attraverso il programma. Noi diamo questo, diamo un'azione determinata e nello stesso tempo giusta e corretta. Quindi ha fatto riferimento ai prossimi appuntamenti, abbiamo detto elezioni provinciali, prima delle regionali, quindi anche alle provinciali ci sarà una sfida da vincere per noi moderati. Sarete in campo? Sì, saremmo in campo. Anche se sono elezioni un po' diverse rispetto alle altre perché a meno che non cambino le cose non sono i cittadini. Io credo che venga poi portato a compimento quello che era il tornare a votare come si votava prima, cioè nel senso il cittadino che è giusto anche perché è il sale della democrazia. È sempre i cittadini che devono decidere. Purtroppo per ovvie ragioni che sono state fatte precedentemente, che io giustamente non accetto quello di far votare con la parte politica a chi rappresentare la provincia, io credo che sia necessario ritornare come prima. Molto probabilmente si ritornerà come prima, dove i cittadini voteranno il proprio candidato, quindi la propria coalizione, e anche lì posso dare con sicurezza la partecipazione del gruppo Noi Moderati con il simbolo Noi Moderati. Ovviamente non sappiamo ancora con quale candidato. Ma questo sicuramente no, è troppo presto. Però sicuramente noi ci saremo e saremo sempre pronti a poter rappresentare, come ho detto prima, a quel gruppo di centro che da troppo tempo manca di un interprete importante sulla provincia di Ascoli Piceno ma soprattutto sulla regione. Quindi un territorio, quello della provincia di Ascoli Piceno, che è fortemente, diciamo così, in qualche modo vicino in questo momento a Noi Moderati, possiamo definirlo così, cioè che recepisce quelle che sono le vostre proposte? Sì, vedo che c'è molto interesse da parte della cittadinanza del Piceno perché tutti comunque si aspettano quel qualcosa di diverso che non sia solo ed esclusivamente i soliti partiti. C'è un po' la voglia di qualcosa di diverso. C'è fermento e quindi con il fermento io credo che l'azione politica deve essere sempre nuova, deve essere sempre ingiovanita ma soprattutto deve dare degli impulsi importanti dove la grande maggioranza dei cittadini che non vanno al voto abbiano interesse ad essere rappresentati ma soprattutto a votare quelli che sono programmi e progetti consistenti e importanti. Abbiamo parlato del livello locale, a livello invece europeo insomma che tipo di elezioni sono state queste? Beh, a livello, io credo che a livello europeo abbiamo avuto una importante risposta per i candidati Maria Chiara Fazio e Giorgio Silli che rappresentavano Noi Moderati in termini di preferenze hanno ottenuto un buon risultato e hanno dato quell'impegno che sui territori ci aspettavamo e è stato ripagato con i voti. Pertanto credo che ci sia un discorso il segretario regionale Tablino Campanelli può essere soddisfatto, perlomeno spero ma sono sicuro che è molto soddisfatto del lavoro svolto. Ma soprattutto Maurizio Lupi che ci ha fatto i complimenti anche a Porta a Porta perché a Porta a Porta ha rimesso ha dato il valore a Vespa e del dato di Ascoli Piceno al 5,60% mettendoci insieme ad altri territori se noi contiamo che la provincia di Ascoli Piceno conta solo 210.000 abitanti il fatto che il presidente Maurizio Lupi possa aver dato un valore aggiunto al dato che noi abbiamo portato sul campo credo che ci sia molta interesse ma soprattutto importanza per il lavoro che abbiamo fatto e che abbiamo svolto fino ad oggi. E il merito quindi di chi? Insomma, di tutto il gruppo? Il merito è sempre del gruppo il merito è sempre del gruppo infatti noi moderati parliamo a noi non c'è l'io non c'è il contesto che va un po' a raggruppare i personalismi noi lavoriamo di gruppo come dicevo prima siamo una squadra molto coesa siamo un gruppo d'amici che vogliono condividere oltre quello che è il valore della politica ma soprattutto i progetti che ci focalizziamo a portare avanti e a mettere a disposizione della collettività tutta. Com'è il rapporto Vesperini tra noi moderati e le altre forze di centrodestra? C'è stata ovviamente questa sinergia con Forza Italia a livello nazionale molto lontani ovviamente ancora da Fratelli d'Italia che è il partito leader nella nazione c'è stato il calo netto della Lega alle ultime elezioni insomma in tutto questo nei rapporti con le altre forze di centrodestra come si inquadra il ruolo di noi moderati insomma che ruolo che tipo di rapporto c'è? Allora il rapporto di noi moderati all'interno del centrodestra è un ottimo rapporto un rapporto di coesione di rapporto di quelli che sono i principi che fondano tutto il centrodestra ma soprattutto riguardanti a quelli che sono gli obiettivi certo noi siamo i piccolini della coalizione ma abbiamo grandi ambizioni e crediamo che nel prossimo futuro potremmo raggiungere quegli obiettivi utili a poter far portare noi moderati a delle doppie cifre che potrebbero essere interessanti per tutto il Piceno ma soprattutto per tutto il centrodestra perché ricordiamo sempre che il centrodestra è centrodestra se all'interno c'è un centroforte quindi arrivare al 10% l'obiettivo è l'obiettivo ma non lontano sì l'obiettivo penso che sia ambizioso ma non è come dici giustamente non è lontano perché comunque stanno sulle corde ci saranno l'ingresso di diversi amministratori locali che subito dopo le europee quindi le comunali entreranno all'interno di noi moderati il progetto è ambizioso abbiamo un gruppo che lavora a testa bassa non guardiamo le percentuali per rappresentare quello che è il nostro progetto ma noi guardiamo a quelli che sono i progetti da portare nei confronti dei cittadini non siamo un numero ma siamo un gruppo di persone che vogliono rappresentare quelli che sono gli obiettivi ma soprattutto gli interessi del come dicevo del centro all'interno del centrodestra c'è stata una netta risalita del partito democratico a livello ovviamente nazionale in queste elezioni europee la spaventa un po' questa sorta di riscossa del centro-sinistra ma io sinceramente il partito democratico che possa essere avere dei risultati ben oltre quelle che le loro aspettative non è nient'altro che un passaggio di voti fra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico perché ormai sono loro che vanno in competizione credo che incida poco sul discorso nostro politico sono due azioni diverse politiche e azioni diverse sono delle visioni diverse ma che poi alla condizione dei fatti sono problemi all'interno del partito democratico con gli stessi 5 Stelle Siamo quasi alle battute finali le volevo chiedere un po' anche il punto della situazione su Grotta a Mare dove lei ricopre il ruolo ovviamente di capogruppo parliamo ovviamente di opposizione nel Consiglio Comunale di Grotta a Mare e com'è la situazione nel Comune di Vierasco insomma Allora il Comune di Grotta a Mare un po' va a raggruppare io sono diversi mandati che faccio il capogruppo quindi ho un'esperienza ormai maturata sul campo credo che ci sia necessità visto che Grotta a Mare con i dati oggettivi c'è necessità di lavorare in sinergia con le amministrazioni a prescindere dal colore politico ma soprattutto nel bene e nell'interesse di Grotta a Mare e dei grotta a Mare perché non c'è tempo oggi di litigare non c'è tempo di mettere i puntini sulle IMA c'è tempo di corciarsi le maniche e lavorare per la collettività poi nella condizione diversa che può essere una elezione all'amministrativa ognuno come ho detto prima porterà il proprio programma ma non può essere fatta un'azione amministrativa contro a prescindere perché i cittadini non se lo meritano e perché noi perlomeno il gruppo Grotta a Mare Città Unica che si è confederato all'interno di noi moderati dove saluto la segretaria Eleonora Marini di noi moderati che fa parte del gruppo Grotta a Mare Città Unica si è sempre posto l'attenzione e l'interesse nella crescita di Grotta a Mare e dei grotta a Mare quindi finora un bilancio della Giunta Rocchi il bilancio della Giunta Rocchi è un bilancio che io credo siano positivo sotto alcuni punti di vista altri bisognerà come si suol dire rifare un tagliando di controllo dal mio punto di vista anche nelle variazioni di bilancio anche nei bilanci la fiducia è massima anche perché ci sono delle azioni che sono ormai da dieci anni che vengono poste a carico del Consiglio Comunale dove da parte mia c'è stata sempre massima fiducia l'azione ripeto non a prescindere perché una parte politica diversa da quella che io posso rappresentare non ci appartiene non mi appartiene ma soprattutto vogliamo che il gruppo noi moderati sia l'ago della bilancia ma soprattutto sia l'azione abbia l'azione politica di un partito che possa determinare e programmare insieme alle amministrazioni in questo caso Grotta a Mare fare proposte concrete per portare alto il nome di Grotta a Mare perché fino alla prova del contrario vengo da Grotta a Mare e me ne vanto questo è anche una cosa che le fa onore perché solitamente siamo abituati a discutere con esponenti della minoranza che troppo spesso fanno opposizione a prescindere quindi invece da parte sua c'è la volontà se non vado errato se non ho capito male di collaborare comunque con le forze di maggioranza per il bene del territorio sì questo è vero ti ringrazio di questa domanda perché anche quando abbiamo presentato capita raramente per questo noi abbiamo quest'azione politica sul territorio e non per ultimo anche sul su Monteprandone ci hanno detto che noi eravamo la stampella del sindacologi noi abbiamo un'identità se poi dopo prendiamo in esame e cerchiamo di costruire insieme un progetto di città sempre con la nostra visione se poi ha portato attraverso mozione attraverso proposte e votate in consiglio comunale noi siamo ben lieti sicuramente da noi e ripeto il noi non ci sono personalismi noi guardiamo nell'interesse collettivo di quello che è l'importanza di crescita l'importanza della collettività ma soprattutto di quelli che sono i servizi che dovrebbero rappresentare una città e il territorio intero prima di salutarci un ultimo aggiornamento definiamolo così su noi moderati ora sono state le elezioni adesso cosa fate vi riposate staccate un po' la spina o siete già al lavoro insomma per i prossimi traguardi da raggiungere no noi non ci fermiamo mai e adesso stiamo riprogrammando quelli che saranno i prossimi impegni elettorali ma soprattutto quello di allargare nella famiglia noi moderati anche alle cifiche ma soprattutto agli amministratori locali sicuramente il consiglio provinciale si allargerà di nuove figure ci saranno persone insomma che avranno dei ruoli importanti e che porteranno e determineranno quello che è la crescita di noi moderati non ci poniamo limite e siamo sicuri che nel prossimo futuro noi moderati avrà una cassa di risonanza importante e sarà decisivo all'interno del centro-destra sempre grazie allora in bocca al lupo e buon lavoro grazie grazie a voi e grazie per l'invito ma soprattutto per l'azione che mi è stata data per poter rappresentare al meglio noi moderati e grazie al segretario regionale Tablino Campanelli perché senza di lui tutto ciò non era possibile grazie grazie a Lorenzo Vesperini segretario provinciale di Ascoli di noi moderati io ringrazio anche Domenico Delzompo in regia perché questo appuntamento con un caffè con termina qui da parte mia Matteo Porfiri è tutto e vi rinnovo insomma l'invito a continuarci a seguire anche nelle prossime occasioni buon proseguimento con le nostre trasmissioni alla prossima grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti